Sono le 5 ma ancora non ci siamo stancati Non lo ha fatto lui Basta non li voglio Quanti sono? Ma perché mi sto? Palli? Sto, 21 Sto, quando lui arriva a 21 sta E' certo che sta, è 21 Che devi fare, due centesimi Vediamo a Federico un po' perplesso Cioè stai pensando se sta fatto di farlo a pagare la prima No, scoppia E c'è scoppio poi Aspetta Io ho un centesimo Perché c'è Jai Io sono finito Ma che ci fa vedere la conoscenza? Oh, io la stiamo giocando No, bravi Stiamoci all'altro lato Ma Alessandro che sta facendo Un match assurdo Contro se stesso Qua si gioca a Gitarino World Tour Dai ferma Alessandro Ale, dai, non ci romperai via Ma che c'è? Ma è giusto ora che stavo facendo il video Ma che palle Ma che c'è? Dai, mi stanno a che palle Accendi la luce Ale Eh no Se no non si vede La loro faccia impegnata non si vede Accendi la luce Ma che sì, ma lei è leccato Ma sei dubido E' bravo, vede Almeno che devo capire Ma perché mi ha leccato? Perché mi sono Che bello questa cosa Ma adesso Ma adesso Dai, vieni a scuola Dove è un bravo Non avete subito voi Sfigate Ma che sta funzionando, vero? Vabbè, Dav Voi principiati Adesso ci... Lasciate il posto a gente esperta Giusto, calla Alessandro contro Un match che balle Per il primo posto al mondo Addirittura Torniamo qua e ci chiediamo Ma Mario e Vittoria Dove sono? Dove sono? E Gabbro ha perso 5 euro Soca 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 Ma non è il fatto di aver perso 5 euro E' il fatto che Serena mi farà Ah, hai visto? Io ti rogo Ma cara Lei mi farà Tocca a me a caricare Tocca a me a caricare Certo Questa qui è andata, no? Mamma mia Non si immagina che cosa la daria Ti consiglio di non andare Ma voglio vedere che cazzo No, quelle cazzo Vabbè, dove devi dichiarare? E come li possiamo dichiarare? Dichiarare Full Scusi Ovvio, minchia, ma è un pazzesco Vabbè, mamma mia Il rischio è scaringeato di Rosa Ho scaringeato di casa Tu hai scaringeato di casa To sempre di casa Ma ragazzo è un gessore Dopo aver già troppo Solo chiedero Sì, è scaringe anche io Sì, è scaringe Lo sai che su mia Crash bandico Quando va Ma è Ora non mi finiscono i soldi a casa Mi finisco i soldi a casa Ma un'ottima da tre Cos'è è un'altra Ciò è un icsitura Caru si siete delicati Io è l'altra Questa appena due stesse cose mi sto provando un tempo la situazione ieri io credo io che c'era aspetta ciò non ne facciamo già una cristalla che è un po' di bocca cazzo faccia non ne posso più perchè un po' meno piccino no io vi ci vedo non c'è se manco un tot divano ritorniamo ciao ala dimmi sono scarse queste ragazze poi c'è una buzza di piedi non so di chi sto scherzando ovviamente alla ragazza non buzzano i piedi pensavo che siamo scarsi stavo scherzando cazzo di canzone fa no? tipo molto caos basta siete scarsi sarà bravo dai dopo professionisti ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti